Benvenuti, benvenuti all'Aquila, so che molti vengono anche da fuori. Benvenuti a Street Science, passerete delle belle ore sperabilmente guardando anche tutti gli stand che sono qui intorno. Allora, questo evento intanto vi informo che è un evento che è in diretta streaming sul canale Univac, nella sezione e-learning e tra l'altro se qualcuno lo volesse rivedere, fra qualche giorno comunque c'è anche su YouTube, sempre il canale YouTube. Allora, io mi presento, sono Leonardo Guidoni, sono professore presso l'Università dell'Aquila, Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche. Abbiamo qui alla mia destra Stefania Marzola, che è l'interprete Lissa, sapete cosa vuol dire Lissa? È la lingua dei segni italiana. E abbiamo qui alla mia sinistra Gian Umberto, il professor Gian Umberto Accinelli, che è professore di scienze al liceo Manzoni di Bologna. Professore di scienze, ma non solo professore di scienze, perché è anche scrittore. È anche entomologo, 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 spero che non sia qualcosa di brutto. Dipende, dipende, dipende. Allora, magari mi presento, buongiorno, io appunto sono Gian Umberto, faccio l'entomologo. Chi è che sa cos'è l'entomologo? L'entomologia. Ragazzi, uno alla volta, scusate. Prego, chi ha alzato la mano? Bravissimo, studia gli insetti, studia gli insetti. Però, l'entomologia è una scienza molto vasta e il lavoro dell'entomologo è vario e variegato. Ci sono alcuni entomologi, per esempio, che si occupano di difendere le culture agrarie dagli insetti dannosi. Altri studiano, per esempio, come difenderci dalle zanzare. Altri ancora, classici, vanno in campagna con retina a raccogliere le farfalle, a determinare nuovi insetti, cercano nuovi insetti, insomma, fanno tante cose. Io sono un entomologo un po' diverso, perché non mi occupo di queste cose. Me ne sono occupato, però adesso non me ne occupo. Io vado così in mezzo alla natura, non raccolgo gli insetti, ma raccolgo le storie degli insetti, che sono tantissime. E poi le metto nei libri, le racconto così ai ragazzi in giro per l'Italia, le racconto alla radio, insomma, cerco di trasformarle in qualcosa per tutti. E oggi vi racconterò qualche storia. Prima però di iniziare, un paio di raccomandazioni. Allora, sapete che gli insetti sono gli animali più abbondanti del mondo. Sono il 70% di tutti gli animali. Cioè il 70% delle specie animali appartengono a questa classe. Voi siete grandi, quindi sapete bene cosa è il 70%. Come dire, da qua fino a tutti voi sono insetti. Voi, questo gruppetto, siete gli uccelli, i mammiferi, i pesci, tutti gli altri animali. Sono tantissimi. Gli entomologi, invece, sono rarissimi. Chi è che ha mai conosciuto un entomologo professionista dal vivo? Ha mai potuto parlare con un entomologo professionista? Ecco, vedi? Sono rarissimi gli entomologi, sono rarissimi. Io, andando in giro per l'Italia, ho scoperto che c'è una cosa ancora più abbondante degli insetti. Sapete che cos'è questa cosa? Tu non lo sai? Sono le domande sugli insetti, perché almeno una persona ce l'ha. Ecco, visto che le domande sono tantissime, gli entomologi sono rarissimi. In più, adesso lo dico così con grande umiltà, io so tutto degli insetti, sono il migliore tra gli entomologi. Quindi, tiratele fuori le vostre domande, perché magari tra 30 anni, quando sarete adulti, penserete a questo momento, ho detto, mannaggia, non ho potuto chiedere, ho avuto di fronte a me, c'era di fronte a me l'entomologo migliore del mondo e non gli ho fatto la domanda. Adesso, come faccio? Me la devo tenere. Inter non funziona, spesso sbaglia. Bene, quindi, vi racconto qualche storia sulla natura. Vi vorrei iniziare a raccontare, anzi, ve lo chiedo a voi, da cosa iniziare. Sapete che cos'è il coleottero stercorario? Ah, lo conoscete qua in Abruzzo? È famoso, molto bene, all'Aquila, famosissimo. Che cosa fa il coleottero stercorario? No, non vola, vola, sì, ma ha una caratteristica specifica. Il ragazzo lo sa bene. Nella sua tana. E poi cosa ci fa con questo sterco? Giusto, ha ragione. Se la mangia, è il suo cibo preferito, lui mangia solo e soltanto lo sterco dei grandi erbivori. Addirittura, pensate che insetto raffinato, che gusti delicati, lui non beve neanche. Avete presente l'acqua di fonte, l'acqua limpida, le chiare dolci acqua, apposito. No, non gli piacciono. Lui prende l'acqua sole soltanto dal suo alimento preferito, appunto lo sterco. E poi anche lì è piuttosto schizzinoso, non è che mangia tutto. Sapete qual è l'escremento che gli piace di più? Ah, ma l'elefante non è male, quello dell'elefante non è male. Ma ce n'è uno che impazzisce. Quello dell'elefante non è male, è vero, è vero. Ragazzi siete molto preparati nella materia, complimenti, bravissimi. È una materia che così, siete piuttosto bravi. Qual è lo sterco più, è proprio il migliore, la cosa, come dire, non so. No, no, siete in troppi. Una alla volta? Prego. Bravo. Ma siete dei virtuosi, siete dei virtuosi dell'argomento. Bravissimo. Lo sterco di cavallo è il preferito dai coleotteri stercorari. Dei miei colleghi hanno fatto degli esperimenti e hanno visto che preferiscono appunto quella del cavallo piuttosto che la mucca, eccetera. Quello dell'elefante è piuttosto avanti in classifica. Più che altro è molto abbondante. Comunque, raccontiamo qualche cosa sui coleotteri stercorari. Per raccontarlo dobbiamo andare indietro nel tempo, arrivare a metà del 1800. A metà del 1800 sapete che gli inglesi hanno iniziato a colonizzare l'Australia. Sono partiti dall'isola della Gran Bretagna, hanno attraversato l'oceano Atlantico, l'oceano Indiano, sono sbarcati in Australia e insieme a loro, chi c'era? Vediamo un po' se lo sapete. Chi? No. No. Cosa si portano dietro gli inglesi? Andiamo alla ragazzina. Il tè. Beh sì, un po' di tè se lo sono portato, però diciamo così, restringiamo il campo. Si sono portati dietro degli animali grandi. Le mucche. Si sono portati dietro le mucche intere mandrie. Arrivano in Australia. E come si trovano le mucche in Australia? Bene o male? Male? Bene. Bene, sei sicuro? Facciamo così, dato che siamo. Chi è che vota bene? Chi è che vota male? Anche in questo caso la democrazia ha fallito perché vincono quelli che hanno detto bene. Si trovano benissimo, si trovano benissimo le mucche in Australia perché lì ci sono dei prati immensi, erba verde e queste mangiano, mangiano, mangiano e come sapete se la dieta è ricca in fibra, in cellulosa, che succede? Qual è l'effetto, il ragazzino lo sa, vai, vai, dillo forte, chiaro, senza vergogna. Diciamo che fanno i loro bisogni e le mucche le fanno in abbondanza, bravissimo, bravissimo, molto bene. Ripeto, sull'argomento i ragazzi dell'Aquila sono davvero preparati. Ne fanno, pensa, 25 kg al giorno, un quantitativo, insomma, discreto. E falla oggi, falla domani, falla oggi, falla domani, succede che l'Australia si ricopre di escrementi e i prati da verdi diventano marroni, vi lascio immaginare l'odore pestilenziale, un odore terribile. Le mosche aumentano le popolazioni a dismisura, ce ne sono tantissime, tant'è che addirittura il governo australiano vieta la consumazione di cibi all'aperto. Non si può fare il picnic in Australia all'inizio del Novecento, perché sono troppe mosche che potrebbero contaminare il cibo. E quindi, insomma, veramente un problema molto grave, gravissimo. Allora, il governatore inglese si chiede, ma perché in Australia succede questo? Perché lo sterco della vacca permane nel prato? In altre parti del mondo viene processato, se ne va, a un certo punto non succede niente, cioè l'erba vince sull'escremento. Come mai invece in Australia, no? E per risolvere la situazione chiama degli ingegneri e pone la domanda agli ingegneri. Gli ingegneri arrivano così nel prato, che è diventato marrone, studiano, analizzano, fanno tanti studi e poi trovano una risposta al problema? No, non lo trovano, avete ragione. Chiamano dei chimici? I chimici, arrivano i chimici con le loro provette, fanno le analisi, portano lo sterco in laboratorio, il terreno in laboratorio, fanno delle analisi. Studi incredibili e arrivano a una soluzione? No. Chi ha detto sì? E invece purtroppo no. Chiamano altre categorie professionali? Niente, non si arriva una risposta. A un certo punto al governatore inglese viene un'idea. Ma perché non chiamare la categoria di professionisti? Nota per la grande intelligenza, probabilmente sono i più intelligenti del panorama professionale al mondo. Sono persone con un cervello chiarissimo, capaci di mettere così in ordine i pensieri come le stelle nel firmamento. Chi sono questi professionisti? Questa categoria professionale nota per la loro intelligenza. La conoscete? Gli entomologi bravi, molto bene, sono gli entomologi, categoria la quale casualmente, casualmente, faccio parte anch'io, un caso, un puro caso. Gli entomologi vanno nel campo, analizzano la situazione e capiscono la situazione? Chi è che ha detto no? Chi è che si è permesso di dire no? Chi è il colpevole? Certo che lo capiscono, sono dei geni, sono brillanti e capiscono che in Australia mancava un pezzetto della natura, mancava un insetto, appunto un coleottero stercorario, in grado di processare lo sterco. In realtà c'erano dei coleotteri stercorari, ma erano abituati alla cacca dei canguri, dei koala, soprattutto roba molto piccola, c'è cibo molto piccola, e soprattutto secca, perché così l'ambiente arido australiano non permetteva, cioè gli animali ritiravano l'acqua dagli escrementi prima di lasciarli all'aperto. Quindi i coleotteri australiani non erano un certo in grado di processare i 25 kg umidi della vacca. Quindi cosa fanno gli entomologi? Gli entomologi vanno in giro per il mondo, vanno a cercare il campione del mondo della specialità, cioè il mangiatore di cacca. Vanno in Africa, vanno in Europa, vanno in America, vanno in India, vanno in Asia, vanno dappertutto e lo trovano finalmente? Sì, no? Facciamo la votazione, facciamo la votazione. Chi vota sì? Chi vota no? E questa volta avete a ragione il partito del sì, perché lo trovano? Ma dove? Dove lo trovano? No, in Australia non c'era, in Africa, in Africa, bravo, perché? Perché in Africa? Ricordati da un indizio, ricordati che c'è una legge in ecologia, c'è lo studio tra le reazioni tra gli animali, i vegetali, gli organismi e il loro ambiente, che dice dove c'è l'ambiente c'è l'animale. Se tu formi una foresta, dopo qualche anno, 10, 20, 100 anni, perché la natura ha dei tempi lenti, arrivano gli abitanti della foresta, arriva il gufo, arriva il lupo, arriva il cervo, arrivano tutti gli abitanti della foresta, dove c'è l'ambiente c'è l'animale. Per questo che ci sono tante zanzare, poi magari ne parliamo in città, perché noi gli abbiamo creato l'ambiente. Comunque, riprendendo, quindi perché c'è il più grande coleottero del mondo in Africa? Ci deve essere un ambiente adatto al coleottero. Chi c'è in Africa? Bravissimi, ci sono gli elefanti, che non ne fanno 25 kg, ma ne fanno, sai quanta? No, tonnellata, tonnellata. Quanto? 75 kg? Chi vota di più? Quanto voti? 100? Mamma mia, 100. Attenzione anche laggiù, c'è uno che vuole votare, prego, con il cappellino. 140 kg? Sono un po' esagerato, 140 è troppo. Fan, la ragazza, che è un'intenditrice? 80 kg. Sentiamo anche... Quanto? 70. All'ultimo, dai. Quanto? Non ho sentito. 50, bravi, ha vinto quello dal 50, bravissimi. 50 kg al giorno. No, applauso, giusto? Applauso. Quindi il coleottero, ragazzi, il coleottero africano è una bestia feroce, cioè se ne mangia tantissimi. Quindi cosa fanno gli entomologi australiani? Prendono il coleottero africano, lo portano in Australia, lo allevano in laboratorio, lo liberano e come finisce questa storia? Benissimo. Perché i coleotteri in Australia trovano l'America e mangiano, mangiano, mangiano e pensate, dopo solo i quattro anni, liberano l'Australia che da marrone ritorna verde, si sente di nuovo il profumo di violetto, gli australiani possono andare a mangiare i panini all'esterno, soprattutto torna alla normalità grazie agli entomologi. Ma non solo. Gli australiani grati, per così ringraziare il coleottero stercorario, costruiscono una statua. Si è andata a Melbourne, proprio all'ingresso della città, c'è una grande, io non sono andato, però ho visto, c'è una grande strada che porta, che entra nella città, ebbene lì c'è un'enorme sfera di sterco, ovviamente, su cui camminano due coleotteri stercorari. Non è molto elegante, ammettiamola, non è proprio una statua molto elegante, però mi sembra doverosa. Bene, questa è una delle storie. C'è un, diciamo, voi siete piccoli, non lo so, ma il professore sicuramente se lo ricorderà, c'è un lato B di questa storia, si ricorda i dischi, c'era il lato A e il lato B, c'è un lato B di questa storia, un lato B che non ho scritto nel primo libro, ma solo l'ho ripreso, vabbè, adesso questa è un'altra cosa, un lato B. Cioè, il coleottero più grande del mondo, in realtà, non vive in Africa, ma vive, sapete dove? in un luogo completamente inaspettato. Prego. Dove? In America, in Europa? No. Uno alla volta, ragazzi. Ragazzi, calma, se no non sento. Eh no, in Australia non c'è. Sentiamo. In Asia, dove? Asia, bene, ma in Cina? In Asia, bene, ma in Cina? Come faccio a sentirvi, ragazzi? Silenzio un attimo, silenzio per favore, prego. In India, sì, ma dove? Ve lo dico io, ve lo dico io. Dove? Sul Limayala, bravissimo. Solo che c'è un problema, c'è un problema. Su queste cime altissime, non ci sono grandi erbivori. Cioè, ci sono questi coleotteri enormi, giganteschi, che potrebbero mangiare chili e chili di sterco, ma lo sterco non c'è. Oddio, c'è qualche yak, c'è qualche capra ogni tanto, ma insomma, veramente poca roba. Infatti i poveri coleotteri stercorari malayani fanno la fame, vivono dei stenti poveretti. E lì c'è un problema. Ma che ci fa un coleottero così grande in un ambiente così ostile? Abbiamo detto prima che dove c'è l'ambiente c'è l'animale, lì non c'è l'ambiente ma c'è l'animale. È una cosa davvero bizzarra. È così la classica cosa che conferma la regola, l'errore che conferma la regola. Come mai? Gli entomologi si sono chiesti a lungo dove, per questo problema, si sono fatti la domanda e dopo uno studio matto e disperatissimo si sono risposti. Sapete perché c'è il coleottero stercorario su questa catena montuosa così alta? Perché? Ah, questa è una sfida cognitiva molto difficile, immagino che non riusciate a rispondere. Perché in realtà c'è stata l'età dell'oro dei coleotteri stercorari. C'è stato un momento in cui i coleotteri stercorari stavano benissimo. Poi questa età dell'oro è finita. C'erano dei momenti in cui gli escreventi piovevano, non neanche a pioggia, a valanga sui prati dell'Himalaya. Era il periodo in cui vivevano i mammut lanosi. C'erano i mammut lanosi che vivevano in queste zone e se un elefante ne faceva 50 kg, figurati un mammut lanoso. Era un virtuoso di questa cosa. E quindi i coleotteri stercorari i malagiani stavano benissimo. Poi cosa è successo? Che fino hanno fatto i mammut lanosi? Esatto, si sono estinti. E i poveri coleotteri stercorari sono rimasti, comunque sono riusciti a sopravvivere. E i poveretti però vivono distenti. E' per questo che i ricercatori australiani non li hanno presi. Perché ce ne sono talmente pochi che in qualche modo non volevano depauparare la popolazione dell'Himalaya. Sono stati comunque in Africa. Visto che vi piace l'argomento, poi magari facciamo una pausa se volete farmi un po' di domande. Visto che vi piace l'argomento vi racconto un'altra storia su questa cosa, va bene? O cambio, parliamo del profumo dei fiori? No. Continuiamo l'argomento? Allora, va bene, continuiamo sull'argomento. Vedo che a voi dell'acqua la piace molto. Allora, ragazzi, dovete sapere che gli escrementi hanno tantissime funzioni ecologiche, cioè servono agli organismi viventi. Avete presente una ciliegia, una pesca, magari una pesca no, però, soprattutto le ciliegie o quei frutti piccoli rossi, quelli sono dei sistemi che utilizzano le piante per portare in giro i propri figli, detti in maniera un po' più scientifica, i propri semi. Cioè all'interno del frutto ci sono i semi, solo che i semi non hanno le gambe, non hanno le ali, non se ne possono andare, e quindi la pianta li affida a degli animali e gli dà una ricompensa, che è la polpa del frutto. Quali sono questi animali soprattutto? Ah, i bivori sicuramente perché si mangiano i frutti, quindi sì, possiamo. Però le api si occupano, come vedremo tra un po', dell'impollinazione, bisogno di fiori, ma non i frutti. I cinghiali, no? Ragazzi, è facilissimo. Chi è che viaggia? Qual è il gruppo di animali che viaggia? Gli uccelli, gli uccelli, esattamente. Quindi, infatti, se notate, i frutti sono, la maggior parte, piccoli, tondi, perché gli uccelli non hanno i denti, quindi il frutto deve rotolare nell'esofago. Sono rossi, perché sono rossi? Perché gli uccelli vedono bene il rosso. Sono dolci, perché agli uccelli piace il dolce, amano, amano, hanno bisogno anche di calorie, calorie che devono usare subito. In inverno ci sono le olive che hanno i grassi per aiutare gli uccelli a migrare. Insomma, comunque. E poi hanno l'acqua, così gli uccellini non devono scendere nel ruscelletto e possono stare in alto, lontani dai nemici. Comunque, l'uccellino prende il frutto, la ciliegia, la mora, insomma, qualsiasi frutto, e viaggia, 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 digerisce la polpa e i semini invece cosa fanno? Attraversano tutto, così, il tubo digerente. Quando un bel giorno, quando sono così nell'alto dei cieli, quando volano nell'aria inondata dal sole, a un certo punto che succede l'uccellino? Eh, esatto, viene così un po' di mal di pancia e quindi libera nell'aria il seme accompagnato da? Bravo, dall'escremento d'uccellino. Quindi il seme si trova a terra, si trova a terra con l'escremento. L'escremento è importantissimo per vari motivi. Uno difende il seme, cioè un animale di otto di semi se ne sta lontano perché gli escrementi non è che piacciono a tutti, tutti insomma se ne stanno lontani. In più lo proteggono dal sole e gli forniscono un po' d'acqua, un po' d'acqua per le primissime fasi, cioè per la germinazione. Poi quando la radichetta e la giovane piantina, le prime foglie spuntano dal terreno, ormai la pianta autonoma può prendere la luce del sole e formare gli zuccheri, fare la fotosintesi clorofiliana, quindi autonoma, e l'escremento si secca. C'è un problema, c'è un problema. Il problema è globale, ma in alcuni luoghi del giorno e del mondo si fa sentire di più. Qual è il problema ambientale di questi anni? Quello vero grave. Il riscaldamento globale, molto bene, il riscaldamento globale. Quindi in alcune zone del mondo, il sud dell'Europa per esempio, il semino si trova con l'escremento, ma il soleone terribile di questi anni prosciuga l'escremento e il povero seme non riesce ad attecchire. Pensate, ci sono dei ricercatori che anche lì dopo uno studio incredibile, complicatissimo, difficilissimo, si sono inventati la soluzione. Per un grande problema serve una grande soluzione. ecco che questi ricercatori si sono inventati un escremento artificiale, gigantesco, enorme. È una roba grande così. Assomiglia a una ciambella. Di che colore è secondo voi? Esatto, bravissimi, marrone. Sono stati coerenti. Nella parte così, la ciambella è piena d'acqua. Ed è cava, no? C'è una parte cava. Cioè, proprio come fosse una ciambella quella del mare. Poi ci sono delle corne che escono dalla ciambella e così portano goccia a goccia l'acqua nel terreno. Poi si mettono o la piantina già un po' cresciuta o il seme e questa ciambella riesce a irrigare, a inumidire la radichetta e riesce in qualche modo a contrastare il sole terribile del riscaldamento globale. Poi, quando la pianta autonoma, cioè quando la radice è riuscita a trovare una falda, la falda vuol dire della terra umida, detta in maniera semplice, sotto terra, allora, pensate, questo escremento artificiale, pensate, si comporta da vera merda. Sapete cosa fa? si disgrega, è di sostanza organica, si disgrega e arricchisce il terreno di sostanze minerali, sostanze minerali fondamentali per la crescita della pianta. Quindi, insomma, un'invenzione geniale che in realtà è già stata utilizzata, è stata utilizzata nel sud della Spagna, alcune zone nel sud della Spagna che erano diventate dei deserti, si stanno così, stanno tornando verdi grazie a questa invenzione e so che c'è un programma per utilizzarla nella nostra Calabria. Quindi, insomma, una bella invenzione. Bene, ragazzi, io sto parlando un po' da solo, avete delle domande? Vogliamo fare una piccola pausa? Fate delle domande, cinque minuti, poi vi racconto qualcosa sulle api, diciamo che abbandoniamo l'argomento. Sentiamo un po', prego. Ragazzi, per favore, così riesco a sentire. Allora, i motivi, non lo so, però, la Calabria ha alcune zone molto aride, alcune zone molto aride e quindi vogliono, credo fare degli esperimenti, li vogliono vedere se funziona. Da quel che solo vorrebbero utilizzarla per frenare l'avanzata del deserto. Prego. l'insetto più strano che ho mai studiato? Allora, devi sapere che gli insetti sono tutti strani. Cosa vuol dire strano? È un concetto un po' diverso. Strano normalmente lo utilizziamo per qualcosa diverso da noi. noi definiamo strano qualcosa che non entra nella nostra quotidianità, ma è un concetto relativo, perché per noi, cioè per gli insetti noi siamo molto strani. Quindi, diciamo così, sono molto diversi da noi. Tutti, tutti sono diversissimi. sono piccoli, mentre noi siamo relativamente grandi, hanno dei sensi molto, molto diversi dai nostri. Per esempio, vedono poco, ma sentono benissimo gli odori. Poi magari vi racconto una storia su quanto riescono a sentire gli odori gli insetti. Hanno uno scheletro esterno e non interno come il nostro. E direi che sono davvero tutti molto strani. C'è un insetto particolare che secondo me ha delle caratteristiche, ci sono alcuni che prevedono addirittura il futuro. La libellula, per esempio, non attacca la mosca nel presente, ma l'attacca nel futuro. Lei, e non si sa bene come, colpisce dove c'è la massima probabilità che la mosca si posi, sì, esattamente. Mentre, non so, il leone rincorre la gazzella ed è nel tempo presente, la libellula si sposta in una zona dove apparentemente non c'è niente, ma è che probabilmente ci sarà la mosca. E infatti l'efficacia di cattura della libellula è straordinaria. Arriva al 90%. Mentre invece quella del leone con la gazzella è molto, molto più bassa. Sto dicendo leone perché così entra nel nostro immaginario del predatore, ma in generale dei mammiferi. e quindi riesce a, in qualche modo, a prevedere il futuro. C'è un altro insetto che secondo me è veramente incredibile ed è, lo conoscete benissimo, probabilmente lo amate per tanti motivi, è la zanzara. Come non l'amate? Ma come? Non vi fa schifo? Ma la zanzara è importantissima, eh? la zanzara è importantissima dipende dove, avete ragione, avete ragione. Vi piace la cioccolata? Sì. Ogni volta che mangiate la cioccolata cosa dovete dire? Grazie, zanzara. Sì, sì. Perché? Dovete sapere che la pianta del cacao, la pianta del cacao vive sotto la foresta equatoriale brasiliana insomma del Sud America. Un luogo molto umido, addirittura poco illuminato perché le fronde degli alberi sono una sorta di muro orizzontale che non permette l'ingresso dei raggi del sole. Bene, in questo luogo, in questo ambiente vive la pianta del cacao e non vengono impollinate le api, le api amano il sole, amano, sono le figlie del sole come le chiamava il grande poeta materlich. E quindi la pianta del cacao chiede di essere impollinata da un insetto, un altro insetto che ama sia l'oscurità sia l'umidità. E chi è questo insetto? In realtà non proprio la zanzara, un insetto molto simile, ma i maschi della zanzara. Perché mentre le femmine sono essere terribili che succhiano il sangue, danno fastidio, veicolano malattie, i maschi invece sono esseri eteri poetici che viaggiano da sole di notte. Sto parlando delle zanzare, cosa c'entrate voi? I maschi sono appunto esseri eteri che si nutrono del cibo degli dèi, il nettere dei fiori. Quindi sono questi insettini che si intrufano nel fiore molto piccolo del cacao, si sporcono di polline e portano il polline da un fiore all'altro. grazie a questo processo si forma un frutto molto grande, i semi e poi si fa appunto la cioccolata, quindi ogni volta che mangiate la cioccolata dovete dire grazie maschi delle zanzare, maschi delle zanzare, che poi in realtà non sono proprio zanzare, ma insomma, molto simili. le zanzare femmine hanno una capacità di riconoscere la propria chiamiamola preda straordinaria, riescono a sentire l'odore, l'anidride carbonica che noi emettiamo attraverso la pelle e l'odore si avvicinano spesso in luoghi difficili da così da trovare tipo le caviglie per esempio le caviglie dei piedi arrivano e che fanno queste zanzare? Ti anestetizzano, ti mettono un anestetico dove tu non senti niente, poi infilano gli stiletti boccali delle sorte di siringhe, cercano un capillare, tolgono il sangue e poi se ne vanno. Infatti noi stiamo male non tanto per il prelievo del sangue ma per questa sostanza anestetica contenuta nella saliva che ci crea una piccola una microreazione allergica però insomma le capacità delle zanzare di trovarci sono straordinarie sono proprio delle macchine trova sangue amano diversi odori sapete qual è l'odore preferito dalle zanzare? Quale sudore? Troppo generico sudore? Sudore? Cosa? il sudore dei piedi amano l'odore dei piedi pensate che un ricercatore un mio collega un genio un fenomeno è stato tre mesi d'estate con i calzettoni di lana e gli scarponi andava in giro dappertutto con queste cose non se le toglieva neanche di notte e poi dopo ha fatto l'analisi e ha scoperto questa cosa ha scoperto due cose una che le zanzare amano l'odore dei piedi dei suoi piedi per loro era così un odore prelibato e già che c'era entomologo un genio quindi amante della ricerca delle domande ha analizzato questo interesse ha analizzato le sostanze aromatiche diciamo così le sostanze volate le ha messe ai suoi piedi con le sostanze di un formaggio olandese e ha scoperto che ci sono delle somiglianze che insomma sono simili pensate che genio che entomologo incredibile è stato lasciato dalla moglie purtroppo ma però per la scienza questo questo ed altro bene ragazzi volete fare qualche domanda poi vi racconto la ragazza te lo meriti le allora cosa servono allora ti racconto devo dire che ogni volta che mi presento e dico che sono un entomologo le persone mi fanno due domande cosa servono le zanzare e quanto quanto vive quanto vivono le farfalle allora cosa servono le zanzare la risposta è dipende alle volte sono utili perché impollano delle piante alle volte non servono a niente anzi sono dannose per esempio in città ci danno fastidio e potenzialmente possono veicolare delle malattie qua vicino nel sud di Roma lo sapete nell'agropontino c'era un enorme palude e lì c'era la malaria che uccideva le persone e la malaria viene veicolata dalla zanzara nofele quindi insomma possono essere pericolose addirittura la zanzara è ancora l'animale più pericolosa al mondo perché veicola la malaria che in molte zone del mondo uccide ancora le persone che le lumache ho capito però quella è un'altra cosa quindi dipende però come ti chiami la ragazzina come ti chiami Fatima Fatima dovresti fare questa domanda a una rondine primavera quando arrivo le rondine tu ne prendi una scusa signora rondine cosa servono le zanzare e lei ti dice ma come sono fantastico un cibo prelibato è come chiedere a te Fatima cosa serve la pizza è uguale per la rondine le zanzare sono squisite vi racconto una cosa su quanto durano le farfalle così sistemiamo sistemiamo la cosa poi dopo di nuovo spazio le domande un attimo racconto questa cosa poi vi lascio parlare potete riposare il braccio se volete allora quanto dura una farfalla lo chiedo a voi prego due giorni tre giorni chi offre di più cinque tre giorni lassù cosa dicono vediamo lassù cosa dite voi cinque quattro una settimana cinque giorni vabbè ok ragazzi ragazzi vi do la risposta ragazzi ragazzi vi do la risposta allora avete ragione tutti perché scusate di farfalle ce ne sono ventimila specie ce ne sono tantissime alcune durano un giorno altre durano tre altre cinque a parte che parliamo degli adulti altre durano quindici giorni un mese alcune addirittura possono durare dei mesi è il caso per esempio della farfalla monarca conoscete la farfalla monarca? sì? chi ha detto di sì? dove vive la farfalla monarca? vai vabbè giustamente lo spiego io questa storia tu la conosci la farfalla monarca è una farfalla che vive nel nord degli Stati Uniti e in Canada c'è proprio il confine tra gli Stati Uniti e il Canada quando arriva l'inverno e sapete che lì così a nord l'inverno arriva presto la farfalla monarca inizia a fare una lunga migrazione inizia a andare verso sud verso sud percorre chilometri 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 più di 4.000 chilometri e così arriva in Messico arriva in Messico in alcune vale del Messico lì trascorre l'inverno e poi in primavera fa il viaggio al contrario ci mette diverse generazioni però ritorna ritorna così nel nord degli Stati Uniti e il Canada ogni anno qualche farfalla si perde al posto di andare verso sud queste farfalle vanno a sinistra e incontrano che cosa? cosa c'è a sinistra degli Stati Uniti quale oceano? l'oceano atlantico esattamente nell'oceano atlantico c'è un venticello che si chiama corrente del golfo che prende queste farfalle e le porta sapete dove? in Inghilterra fino in Inghilterra ogni anno ci sono degli entomologi che si amano di retini vanno in alcune spiagge appunto dell'Inghilterra e un anno ne prendono due l'altro anno dieci venti alle volte addirittura nessuna perché magari le farfalle sono state sorprese da una tempesta quindi sono morte tutte durante il viaggio nel 1904 una farfalla si è sbagliata due volte è andata verso sud e si è sbagliata a sinistra ha incontrato l'oceano atlantico ma si è sbagliata di nuovo ha sbagliato non ha preso diciamo così ha perso anche la corrente del golfo ma questa è continuata a volare a volare a volare è arrivata a Gibilterra è entrata nel Mediterraneo ha attraversato quasi tutto il Mediterraneo fino a incontrare la più bella città italiana sul Tirreno qual è la più bella città ragazzi Roma non è proprio sul mare è vicina Napoli ovviamente Napoli città straordinaria meravigliosa si scatena sempre no è più bella questa vabbè chi è che ha detto Napoli che non mi ricordo tu allora dimmi come si chiama il lungomare di Napoli chi è che sa come si chiama il lungomare di Napoli via nessuno vabbè ve lo dico io via Caracciolo via Caracciolo e cosa fa questa farfalla quando arriva in via Caracciolo qual è il detto qual è il detto vedi Napoli e poi esattamente e lei ha fatto esattamente così ha visto Napoli ed è morta ed è morta sul lungomare ma incredibilmente passava da quelle parti Filippo Silvestri vabbè lo conoscete tutti Filippo Silvestri non conoscete Filippo Silvestri incredibile è stato un grande entomologo stato un grande entomologo Filippo Silvestri passa da lì con la famiglia era una domenica mattina vede questa farfalla capisce che così era una farfalla americana la prende la spilla la mette in una tecca per le farfalle la porta nel suo istituto di entomologia Caportici che è vicino a Napoli e ancora adesso pensate ragazzi se andate a Portici all'istituto di entomologia all'ingresso vedrete la farfalla che nel 1904 ha attraversato mezzo mondo per vedere Napoli quindi dura moltissimo alcune farfalle durano moltissimo va bene? bene prego ah no prima scusami scusami per dovere c'era lui che ha alzato la mano per un'ora il dolore più forte ce ne sono tanti ce ne sono tanti ce ne sono tanti che provano con for dolore credo che in Italia il dolore più forte sia causato dal calabrone la vespa cabro che ti inietta una quantità di veleno notevole ed è particolarmente veloso c'è una sostanza che ci procura un grande dolore ce ne è una molto famosa che è la formica di fuoco formica di fuoco sapete che è una formica che vive nell'America tropicale che però ha colonizzato anche il sud degli Stati Uniti dimmi la formica è un'altra la formica di fuoco è rossa e ha questo veleno particolarmente doloroso pensate che gli indigeni dell'Amazzonia quando vogliono i ragazzi quando vogliono dimostrare di essere adulti non essere più dei bambini ma essere degli uomini scusami anche con le formiche di fuoco cioè prendono il braccio lo mettono nel nido delle formiche di fuoco dovete sapere ragazzi che io nel 2001 sono andato ad Haiti Haiti è una parte di un'isola dei Caraibi comunque sono andato il primo giorno faccio una passeggiata in giardino e vedo delle formiche cosa faccio secondo voi essendo un entomologo vado a curiosare ovviamente vado a curiosare non sapevo che queste formiche erano le formiche di fuoco ma arriva una formichina mi sale sul braccio e a un certo punto io tranquillo cosa fa? mi punge nell'avambraccio secondo voi io mi sono comportato da bambino o da uomo perché sapete cioè sono andate in escandescenze come come da bambino che scarsa fiducia che avete di me comunque avete ragione ho un dolore così forte un dolore così forte che sono andate in escandescenza gli indigeni dell'Amazzonia mi avrebbero messo mi avrebbero riportato addirittura alle elementari neanche alle medie c'era lui allora questa è una bella domanda se le frafalle si stancano allora voi avete una cultura scientifica di primo ordine quindi sapete che la sensazione di fatica è data da una sostanza che si chiama l'ac... come si chiama? vedi che bravi bravi ragazzi dell'acquila molto bene sapete che io in genere vedo ogni tanto dico incontro molti ragazzi un po' di Italia ci sono i ragazzi di una città che sono tutti dei mezzi fenomeni tutti dei fenomeni sapete qual è questa città? sanno tutto sono bravissimi incredibili sono i torinesi i torinesi sono incredibili sanno tutto poi gli altri sì bravi eccetera poi ci sono dei ragazzi c'è una città dove i ragazzi sono degli zucconi incredibili sapete qual è la città degli zucconi? ma che Pescara sono bravissimi di Pescara Roma sono bravissimi i romani sono bravissimi chi? Milano fantastici Napoli dei geni ragazzi ve lo dico io ve lo dico io aspetta aspetta scusate prima di tutto voglio dire che voi siete lì con quelli di Torino siete proprio lì ma i più zucconi d'Italia e teste vuote d'Italia si trovano a Bologna la mia città quelli non capiamo niente mi dispiace vabbè comunque la fatica dell'acido lattico dicevo l'acido lattico si forma quando nei nostri muscoli non c'è più ossigeno cioè a un certo punto c'è una carenza di ossigeno il sangue non riesce a trasportare l'ossigeno le fibre muscolari per continuare a lavorare fanno un altro processo che si chiama fermentazione lattica insomma producono l'acido lattico e noi però sentiamo fatica ma noi come respiriamo? respiriamo in qualche modo indirettamente siamo così grandi che l'aria entra nei polmoni l'ossigeno viene catturato dal sangue in particolare dai globuli rossi veicolato in tutto il corpo cioè l'ossigeno viene trasportato da punto dai globuli rossi per nutrire diciamo che non è una parola corretta però per dare l'ossigeno a ogni singola cellula quindi capito l'aria entra nei polmoni va nei globuli rossi c'è un percorso piuttosto complesso negli insetti non funziona così la respirazione hanno i polmoni gli insetti? no non ce l'hanno hanno le trache cioè hanno il corpo traforato hanno il corpo traforato parte una trachea c'è un tubo che poi si dirama quindi l'aria entra direttamente nel corpo dell'insetto cioè l'ossigeno arriva direttamente nelle cellule non come noi che necessita del sangue infatti non fatelo mi raccomando ma come vedete schiacciando un insetto non è rosso perché perché non ha l'emoglobina che è questa proteina che appunto veicola l'ossigeno perché l'ossigeno arriva direttamente è del motivo per cui sono piccoli quindi l'ossigeno può passare bene in questi tubini piccolini da noi non funzionerebbe perché ci vorrebbero dei tubi così grandi e l'aria non passerebbe in maniera adeguata bene per insetti per animali così piccoli questo sistema respiratorio è così efficace che non provano fatica non si forma l'acido lattico quindi questi lavorano 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 e non si stancano quindi no non provano fatica c'è stato un esperimento crudele ma famoso negli anni 60 alcuni ricercatori hanno preso delle cavallette le hanno messi in una gabbietta e questa gabbietta aveva il pavimento elettrificato cioè c'era una piccola scossa che attraversava questo pavimento quindi le povere cavallette scendevano prendevano la scossa e saltavano scendevano e saltavano poverete l'hanno fatta lavorare per tre giorni e queste sono saltate per tre giorni poi alla fine sono stramazzate poverette i ricercatori hanno fatto una diciamo così una ricerca l'analisi dei muscoli e non hanno trovato traccia di acido lattico quindi probabilmente non hanno fatto fatica sono stramazzate perché era finito il combustibile il glucosio non andavano più avanti non c'era più il combustibile prego allora gli insetti che meno di meno si chiamano le effimere gli effemerotteri poi ecco un'altra cosa sapete che gli insetti hanno diversi stadi c'è l'uovo la forma giovanile che può essere di due tipi poi c'è negli insetti superiori uno stato intermedio si chiama pupa e l'adulto quindi noi normalmente vediamo solo l'adulto comunque negli effemerotteri la fase adulta dura poche ore si chiamano effimere perché sono effimere escono e quando escono escono a milioni a milioni ricoprono i fiumi e poi così con un alito di vento scompaiono sai che non ti sento allora gli scarafaggi devi sapere che sono animali antichissimi sono preistorici sono arcaici sono dei fossili di venti hanno viste di cotte e di crude e se li schiacci c'è poco da fare la pressione meccanica distrugge gli organi vitali e quindi questi poveretti muoiono anche se gli scarafaggi hanno delle caratteristiche per esempio possono diventare delle frittelle piccolissime e passare sotto gli stipiti alle volte resistono lo schiacciamento bisogna schiacciarli bene perché se no questi rimbalzano sono tipo elastici e poi hanno questa caratteristica che vivono anche 15 giorni se perdono la testa letteralmente cioè perdono la testa ma questi vivono uguale non hanno un gran cervellone il sistema nervoso centrale non è straordinario quindi loro riescono comunque riescono comunque a vivere perché resistono alle radiazioni le radiazioni perché ci fanno male alcune ci bruciano così ma altre entrono nelle nostre cellule cambiano una molecola che si chiama DNA ebbene sembra che il DNA la capacità di riformare il DNA degli scarafaggi sia straordinaria quindi arriva questa così questa radiazione brah scusi non mi veniva e loro riparano il DNA come? infatti lo stanno studiando lo stanno studiando sono sopravvissute la famosa bomba di Hiroshima è vero che sono sopravvissuti prego si riproducono? le zanzare? no le zanzare si riproducono attraverso una danza noi pensiamo che le zanzare siano degli esseri orrendi bruttissimi e invece danzano non so se avete mai visto delle zanzare prossimità del suolo vorticare fanno dei vortici quelli sono i maschi e le femmine che danzano dopo un'adeguata danza così si accoppiano la zanzara femmina ci prende il sangue non per riprodursi non per accoppiarsi ma per maturare le uova produce milioni di uova ha bisogno di molte proteine proteine che prende dal nostro sangue quindi serve per maturare le uova il maschio infatti che non deve fare le uova micca ci succhia il sangue si accontenta di un po' di zucchero che trova nei fiori non ti sei devi toglierti la mascherina più abbondante? allora probabilmente sono le formiche probabilmente sono le formiche sapete cos'è la biomassa? chi è che sa cos'è la biomassa? è la massa di un determinato essere vivente la biomassa è abbondante quella delle piante ovviamente ma quella delle formiche sembra essere enorme si fanno dei calcoli e secondo alcuni ricercatori la biomassa delle formiche supera quella degli esseri umani pensate che noi esseri umani siamo più di 7 miliardi e sono tanti se così li radunassimo tutti dall'Africa dall'Ase dall'America tutti le mettessimo da una parte poi mettessimo tutte le formiche dall'altra la massa delle formiche sarebbe più grande no non di tanto hai ragione non di tanto ma comunque più grande ma noi siamo grandi siamo degli animali molto grandi prego allora l'animale più l'animale più pericoloso al mondo è la zanzara la zanzara la zanzara è l'animale più pericoloso in assoluto perché è l'animale più pericoloso al mondo perché uccide mi sembra 500.000 persone all'anno perché veicola la malaria esclusi gli insetti non te lo so dire vediamo una ultima domanda poi vi racconto una storia sulle api dai non sento a che fa più male che fa più male l'abbiamo già detto allora ragazzi dai vi racconto una storia sulle api abbiamo parlato di tante cose parliamo anche delle api allora le api cosa fanno? raccolgono il nettere cosa se ne fanno del nettere? bravissimo e il miele sapete cos'è? è l'eterna primavera dovete sapere che le api sono degli animali tropicali esattamente come noi anche noi ci siamo sviluppati in ambienti molto caldi e vivono in ambienti anche piuttosto freddi con clima continentale grazie alla capacità di ricostruire una bolla d'Africa all'interno dell'alveare cioè nell'alveare d'inverno ci sono sempre 28-29 gradi come nelle nostre case perché riusciamo a vivere all'Aquila e d'inverno c'è anche la neve perché noi creiamo delle bolle d'Africa nei nostri appartamenti nelle nostre case le riscaldiamo quindi le facciamo assomigliare al nostro habitat e come si fa come fanno a fare il miele allora partono come dicevate voi in realtà da una materia prima che è il nettere dei fiori ci sono delle api che si chiamano bottinatrici che prendono il nettere riempiono la borsa mellifera che è una borsa interna del corpo quando questa è piena l'ape bottinatrice ritorna nell'alveare e non deposita l'alveare il nettere direttamente nella celletta esagonale ma lo passa una sorella ricordatevi che l'ape non sa fare il miele le api lo fanno lo fa tutto l'alveare bene la sorella prende questa goccolina di nettere e lo passa un'anta sorella che lo passa un'anta che lo passa un'anta che lo passa un'anta insomma si forma una catena dolce come il miele ogni sorella aggiunge qualche cosa aggiunge un'enzima che è una sostanza una proteina che renderà il futuro miele indeperibile il miele vi dicevo è la primavera eterna non può andare a male non può marcire quindi viene preservato da questa sostanza a proposito una piccola parentesi come si fa a riconoscere un'ape maschio da una femmina ma se vedete un'ape così nel prato dagli occhi cioè fammi dire ma tu vai da un'ape a vedere se ha il pungiglione e se ti punge vabbè sei sicuro che sia una femmina hai ragione però non è proprio un metodo molto pratico cioè qual è la differenza tra maschi e femmine prego l'ape maschio è più grande sì però anche lì è un criterio non guardate su internet non guardate vietato google ve lo dico io ve lo dico io sono tutte femmine sono tutte femmine tutte le api che dentro del prato sono femmine se volete un altro criterio se sta lavorando se sta prendendo il nettero dei fiori se sta facendo qualcosa è una femmina se non sta facendo niente è un maschio va bene continuiamo con il racconto allora siamo arrivati all'ultima sorella che posiziona la gocciolina di nettere nella celletta esagonale ma è ancora nettere non è miele c'è ancora tanta acqua di notte le api iniziano passatemi il termine a cucinare il miele cioè sbattano le ali tutte insieme all'unisono tutte insieme sono circa 50.000 le api di un alveare ogni ape ha 4 ali quindi quante ali sbattono insieme vediamo qua eh matematica 50.000 per 4 va bene va bene va bene ottimo siete bravi anche in matematica benissimo benissimo quindi creano una sorta di corrente che attraversa i corridoi dell'alveare e ha la stessa funzione del phon quando vi asciugate i capelli gettate dell'aria calda nei capelli appunto e quest'aria porta via l'acqua e la stessa cosa succede col venticello prodotto dalle ali delle api alla mattina il miele ha perso il netter ha perso il 70% di acqua si è trasformato in miele e si è trasformato in miele e quella sarà una gocciolina di primavera che così scalderà l'alveare in inverno bene quindi il miele deriva da un processo si parla da una materia prima per arrivare a qualcosa di assolutamente originale non troverete mai il miele su un albero in un fiore troverete la materia prima il nettare lo lavorano fanno una sorta di processo creativo le api per produrre il miele esattamente quello che facciamo noi tu ti mangi il grano oggi a pranzo che ti mangi? alla pasta classico bravo bravissimo vero italiano la pasta è diciamo così deriva da un processo non è che ti mangi i semi di grano sarebbero dei frutti le cariossi di grano ma sono stati tratturati sono state trasformate in spaghetti poi gli spaghetti attessiccati poi li cuoci poi ci metti il sugo il pomodoro insomma c'è un'elaborazione gli altri animali non fanno così la mucca si fa l'insalata? no la mucca si mangia l'erba non si fa l'insalata il leone si fa la grigliata fa gli arrosticini ma che il leone si sbrana la gazzella così quindi il processo lo facciamo solo noi e le api e quindi alcune api alcune api fanno un miele diverso delle altre cioè le api italiane fanno un miele le api tedesche ne fanno un altro le api francese un'altra ancora eccetera eccetera secondo voi qual è la migliore chef al mondo? la migliore chef al mondo? è l'italiana avete ragione è l'italiana è la migliore chef è quella che cucina il miele migliore solo che ha anche altri difetti ma l'ape italiana ha un problema vive in Italia e chi c'è in Italia? esatto cioè gli italiani che spesso hanno quindi non sono consapevoli dello straordinario territorio dei patrimoni nazionali che abbiamo e negli anni 50 gli italiani hanno preso tutte le api del mondo l'hanno portata in Italia e l'hanno mescolati con l'ape italiana hanno creato un ibrido che non era così bravo a fare il miele come la vera ape italiana solo che quando se ne sono accorti era troppo tardi ormai l'ape italiana era scomparsa come fare per risolvere la situazione chi chiamare chi? una categoria professionale che è chi sono? non ho sentito scusate non ho sentito cosa? gli entomologi bravi 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 gli entomologi molto bene gli entomologi secondo voi gli entomologi hanno trovato una soluzione? certo che l'hanno trovata gli entomologi sono entomologi allora gli entomologi cosa hanno fatto? sono andati in giro per il mondo a cercare a visitare le colonie degli immigrati all'estero ovviamente cioè con la speranza di incontrare dei nostri connazionali e con delle in possesso di api portate fuori dall'Italia prima dell'ibridazione quindi vanno in Germania vanno in Spagna vanno in America vanno dappertutto e la trovano questa api italiana chi vota per il sì chi vota per il no ha vinto il no l'api italiana scomparsa perché in realtà anche pensate anche gli italiani all'estero avevano ibridato l'api italiana insomma l'api italiana ormai è estinta ma nel 1972 arriva la buona novella l'api italiana c'è e vive vegeta e vive dove vive? non in Italia per forza dove? in Spagna in Spagna Somalia no vive nel punto più lontano dell'Italia qual è il punto più lontano? la Calabria ma no ma la Calabria è in Italia ragazzi ragazzi ve lo dico io ve lo dico io ok ragazzi apprezzo molto la vostra vitalità però ragazzi ve lo dico io ragazzi calmo un attimo allora la trovano in Nuova Zelanda Nuova Zelanda ma come mai? a fine ottocento un gruppo di nostri connazionali aveva lasciato appunto l'Italia si erano trasferiti in Nuova Zelanda avevano portato l'ape e gli entomologi sono chiesti sta a vedere che così lontani dall'Italia gli italiani sono rinsaviti sono evitati più saggi e invece no sono stati costretti a preservare l'ape italiana perché nella vicina Australia sono successi talmente tanti disastri ecologici che il neozelandese ha detto no non vogliamo più alcun animale esotico dobbiamo perché sennò chissà che succede quindi quel che è dentro è dentro e quel che è fuori rimane fuori quindi l'ape italiana in Nuova Zelanda era rimasta sola non ibridata quindi gli entomologi vanno in Nuova Zelanda prendono l'ape italiana la portano in Italia la levano la librano nel territorio e come finisce questa storia finisce bene o finisce male chi vota per il bene chi vota per il male allora facciamo così questa storia ve la faccio finire non la finisco io adesso dai c'è ancora forse qualche bella giornata di sole sicuramente c'era ancora qualche bella giornata di sole e quando arriva la temperatura magari aumenta di qualche grado andate in un prato cercate dei fiori e nei fiori troverete sicuramente delle api quando trovate un'ape con calma eh ragazzi perché normalmente le bottinatrici non pungono però bisogna comunque trattarle bene non spaventarle vi avvicinate con l'orecchio all'ape e cosa sentirete sentirete un ronzio ma non solo sentirete anche un bel ciao perché l'ape italiana è tornata in Italia evviva applauso per l'ape italiana guarda che ore sono scusate ragazzi se volete cosa facciamo sono 12.40 da un po' che stiamo parlando volete un'ultima storia poi ci salutiamo o siete a posto sentiamo i professori sentiamo i professori che dicono un'ultima storia ragazzi sono stanchi sono stanchi i poveretti allora ragazzi ragazzi dovete sapere affrontate questa grande verità c'è alle medie ma ci sarà soprattutto al liceo dove io insegno nella scuola non c'è democrazia il professore ha detto una cosa e lo rispettiamo eh ragazzi è così funziona così dovete accettare dovete accettare io posso fare un compromesso ve ne racconto una brevissima ve la racconto brevissima va bene ve la racconto una brevissima vi racconto ragazzi veloci che vi racconto una storia sulle zanzare dai raccontiamo una storia sulle zanzare allora ragazzi dovete sapere che negli anni 50 nel Badagascar si scatena una terribile epidemia di malaria un'epidemia di malaria terribile e il governatore inglese perché Madagascar era inglese decide di chiamare per risolverla per capire così come risolve la situazione una categoria di professionisti che sono gli entomologi la faccio breve gli entomologi già arrivano capiscono e cosa dicono proviamo a utilizzare una sostanza che era stata scoperta qualche anno prima il DDT per combattere le zanzare quindi caricano il DDT sulle aerei inglesi gli aerei inglesi fanno piovere il DDT e la zanzara scompare e insieme a lei la malaria se non che dopo esattamente tre mesi tutte le case e le bordi iniziano a crollare come mai? il DDT che c'è? no no allora dovete sapere che il DDT aveva ucciso la zanzara aveva tolto la malaria ma aveva ucciso anche una piccola vespina che iniettava inietta ancora in realtà le uova all'interno di bruchi dall'uovo sguscio una larvetta che si mangia i bruchi uccidendoli senza la vespina le popolazioni di bruchi erano aumentate a dismisura e questi bruchi si mangiavano e si mangiano il bambù il principale materiale costruttivo del borneo quindi le case e le borne erano letteralmente crollate come fa allora gli entomologi decidono di prendere questa vespina allevarla liberarla se non che dopo esattamente tre mesi si scatena un'epidemia di tifo cosa è successo? di nuovo gli entomologi sulla situazione e capiscono che il DDT aveva ucciso la zanzara aveva tolto la malaria aveva ucciso la vespina aveva fatto aumentare i bruchi i bruchi si erano un po' intossicati però poca roba il DDT in realtà non è molto particolarmente tossico è tossico ad alti livelli e ad alte concentrazioni quindi i gechi che si mangiavano i bruchi ne mangiavano così tanti che a causa di un fenomeno che si chiama il bioaccumulo la loro concentrazione di DDT nel corpo aumentava non era sufficiente ad ammazzare ucciderli ma a rimbecillirli e quindi i gechi se ne stavano fermi sui massi così alla merced del nemico chi è che si mangia i gechi? i gatti i gatti i gatti mangiavano un sacco di gechi di nuovo per il bioaccumulo la quantità di veleno era così alta che i gatti morirono tutti nel borneo senza i gatti che succede? i topi ballano e ballano pure le pulci del topo che sono quelle che veicolano il tifo quindi insomma colpendo un insetto a cascata anche per capire come sono formati gli ecosistemi è successo di tutto cosa fanno gli entomologi consigliano al governatore dell'isola andare in India catturare tutti i gatti un sacco di gatti e portarli nel borneo solo che c'è un nuovo problema il borneo negli anni 50 è un'isola impervia montagnosa ci sono alcuni villaggi isolati come fare per distribuire bene i topi ci vuole una categoria di professionisti nota per la loro intelligenza chi sono questi professionisti gli entomologi un po' è che possono far tutti gli entomologi chiamano gli ingegneri che costruiscono una speciale cassa ancorata a un paracadute e quindi il 12 gennaio del 1953 scatta l'operational cat drop cioè di nuovo così gli aerei solcono i cieli del borneo lasciano cadere 22.000 gatti che così poi la scatola si apre appena toccata a terra vanno in giro mangiano i topi e ristabiliscono incredibilmente così l'equilibrio bene grazie siete stati veramente molto gentili molto simpatici faccio i complimenti a voi ma anche i professori perché il vostro livello devo dire le battute su Milano però molto bravi davvero molto bravi grazie 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 grazie